Non è conforme alla legge ed è inopportuno dal punto di vista della sicurezza della popolazione. Regioni Puglia e Comune di Manfredonia prendono una posizione e dicono no all'impianto di gas GPL che Energas vuole realizzare sulla costa del Comune Foggiano. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, gli assessori regionali all'urbanistica, Anna Maria Curcuruto e alla qualità dell'ambiente, Domenico Santorsola, i consiglieri regionali Gian Diego Gatta e Paolo Campo con i tecnici della Regione Puglia Antonello Antonicelli, Giuseppe Tedeschi, Francesca Pace e Giuseppe Musicco hanno incontrato nella sede della Regione Puglia i vertici della Energas SPA accompagnati dall'avvocato Isabella Loiodice ai quali è stata comunicata la posizione presa dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia. Tale deposito, si legge in una nota della Regione, viene ritenuto non conforme alla legge per ragioni tecniche e comunque assolutamente inopportuno dal punto di vista della sicurezza della comunità di Manfredonia, nonché ai fini del corretto sviluppo dell'area industriale di Manfredonia che verrebbe interrotta, se non addirittura zerata, dalla presenza di un impianto che potrebbe rivelarsi di particolare pericolosità come quello in oggetto. Regione comunque dunque si attiveranno nelle sedi competenti a partire dal Mise per la revoca dell'iter autorizzativo dell'insediamento dell'impianto Energas in considerazione del rischio industriale per la città e dell'impatto ambientale per tutto il territorio circostante.